ciao a tutte e benvenute al mio primo tutorial per realizzare un capo d'abbigliamento ai ferri allora per il mio progetto che è un progetto semplicissimo veramente semplicissimo ma alla portata di tutte ma proprio tutte anche chi ha imparato da poco perché io sto imparando adesso questa tecnica la tecnica con i ferri e quindi vi posso assicurare che è un progetto semplicissimo per la realizzazione del mio progetto io ho usato questo filato che è un cotone 100% adesso vediamo se riesco a farvi vedere l'etichetta sono 100% cotone sono 150 grammi per 200 metri e si lavorano con uncinetti e ferri abbastanza grossi perché il filato è piuttosto sostenuto essendo un filato grosso io ho provato a lavorarlo all'uncinetto ma non mi dava soddisfazione quindi ho preferito provare a lavorarlo con i ferri e il risultato è sofficissimo morbidissimo e non risulta più troppo grosso perché lavorandolo ai ferri resta veramente molto leggero è morbidissimo e ha una resa pazzesca per realizzare il mio progetto io ho utilizzato 250 grammi di questo filato questo filato potete trovarlo io l'ho comprato da merceria.spillo di Marisa Marino vi lascio il link sotto nelle informazioni in modo che se foste interessati ad utilizzare il mio stesso filato ad acquistare questo filato che è spettacolare potete raggiungere Marisa direttamente dal link che vi lascio sotto allora il filato io l'ho lavorato con i ferri circolari numero 10 vediamo se riesco a farvi vedere anche questo mettiamo a fuoco eccolo qua con i ferri circolari numero 10 ma è un lavoro a pannelli di conseguenza si può lavorare sempre con i ferri numero 10 ma anche con i ferri classici quelli in linea perché essendo un lavoro a pannelli non c'è bisogno di lavorare in circolare quindi ferri del 10 questo è il filato la prima cosa che dobbiamo andare a realizzare sono due pannelli perfettamente identici ora quello che io ne ho già realizzato uno adesso andremo a realizzare insieme il secondo quello che ho realizzato io è per una taglia 42 ma veste molto morbido quindi veste anche una taglia 44 senza nessun problema vi do i centimetri dell'ampiezza del mio lavoro il mio lavoro misura 50 centimetri d'ampiezza non riesco a mettervi tutto nell'inquadratura ma affidatevi 50 centimetri d'ampiezza per un'altezza e ora vi do anche l'altezza di circa 80 centimetri perché io ho voluto fare una maglia che fosse lunga da mettere adesso quando arrivano i primi periodi autunnali quindi il primo freschino da mettere con un paio di leggings e un paio di stivali nessuno vi vieta di farla più corta basta semplicemente diminuire la lavorazione dei moduli io ho fatto uno due tre quattro cinque sei sette moduli se uno la vuole più corta riduce va a 5 va a 4 alla lunghezza che vi serve allora per la mia maglia io con i ferri del 10 questo filato ho avviato 50 50 maglie siccome sono all'inizio sulle sperimentazioni con il lavoro ai ferri non sono in grado di darvi informazioni su quante maglie avviare se doveste usare un filato più sottile quello che vi posso dire è che per ogni taglia in più per quello che ho visto per quello che ho studiato su internet si aggiungono 3-4 maglie quindi se io ho avviato 50 maglie per una taglia 42 in teoria per una taglia 44 bisognerebbe aggiungerne 3 quindi arrivare a 53 e avanti così però sempre con questo filato se doveste fare lo stesso lavoro con un filato diverso dovete fare delle prove dei campioncini e vedere quanto quanto vi rende il filato perché io questo non ve lo so non ve lo so proprio dire allora detto questo io direi di andare ad iniziare la lavorazione del pannello vi faccio vedere come si inizia il lavoro e poi proseguiremo man mano ora noi realizziamo un pannello io ne ho già realizzato uno quindi voi sappiate che di questa lavorazione con questa lavorazione dovete realizzare due pannelli identici uno per il davanti e uno per il lì dietro essendo il primo lavoro e volendo fare un lavoro molto semplice non ho fatto scalfi manica non ho fatto scollature non ho fatto niente di particolare iniziamo con un lavoro semplice e facile per tutti e poi man mano evolveremo in qualcosa di più complicato quindi io prendo il mio filato allora per questo lavoro io ho usato la maglia legaccio quindi tutti i ferri diritti la maglia rasata quindi un ferro diritto e un ferro a rovescio dopodiché l'unico punto che fa la differenza è la maglia allungata nel box informazioni che trovate sotto io vi lascerò i link per andare a vedere nel dettaglio le tre lavorazioni che noi andiamo a realizzare con questa maglia per questa maglia quindi una volta che avete visto bene quello che sono le tre lavorazioni questa maglia diventa semplicissima da realizzare vi farò vedere anche qua però qua ve lo farò vedere molto più velocemente se qualcuno ha bisogno di studiare nel dettaglio i tre i tre punti che vengono usati nella maglia non fa altro che andare a vedere nel box informazioni i tre link per imparare la lavorazione quindi come dicevo io per me ho messo su 50 maglie eccomi qua quindi prendo i miei ferri circolari creo la mia asolina eccola qua e la inserisco nei ferri e stringo a questo punto vado a montare le mie 50 maglie una due tre quattro cinque sei e vado avanti così fino a raggiungere 50 maglie ok realizzate le mie 50 maglie io giro il mio lavoro e vado a realizzare e vado a lavorare quattro giri di maglia legaccio quindi quattro giri tutti a diritto teniamo conto che il primo punto e il secondo punto sono il primo punto e l'ultimo punto l'ultima maglia sono le maglie di vivagno quindi io la prima maglia e l'ultima maglia la lavoro a rovescio quindi entro carico il mio filo esco e la prima l'ho lavorata a rovescio adesso mi sposto e vado a lavorare quattro giri tutti a diritto quindi facciamo tutto il primo giro a diritto per chi non sapesse proprio lavorare ai ferri e non sa come si lavora il punto diritto se guarda nel box informazioni c'è il link per andare a imparare il punto diritto dove ve lo faccio vedere bene bene nel dettaglio è spiegato ora qua nel tutorial vi sto facendo vedere l'inizio ma non mi metto a spiegare alla perfezione tutti i punti anche perché sono tre punti quindi si può andare tranquillamente a guardare il tutorial e poi si può iniziare a realizzare la maglia ok io vado avanti e finisco il mio primo giro a diritto sono arrivata alla fine del giro lavoro la mia penultima maglia sempre a diritto dopodiché tiro il filo in avanti e l'ultima maglia è quella di vivagno e quindi la lavoro a rovescio eccoci qua ora giro il mio lavoro ritiro all'interno il filo perché la prima maglia come abbiamo detto è quella di vivagno quindi la lavoriamo sempre a rovescio risposto il filo dietro e poi ricomincio a lavorare il mio giro tutto a diritto andiamo avanti così fino ad aver realizzato in totale 4 giri quindi siamo al secondo andiamo a realizzarne altri due il terzo e il quarto e poi ci ritroviamo alla fine del quarto una volta lavorati i nostri 4 giri a maglia legaccio adesso dobbiamo andare a realizzare 6 giri a maglia rasata questo vuol dire un giro a diritto un giro a rovescio un giro a diritto un giro a rovescio un giro a diritto un giro a rovescio quindi partiamo sempre facendo il nostro vivagno quindi tiro il filo avanti e lavoro la prima maglia sempre a rovescio la prima e l'ultima saranno sempre a rovescio dopodiché giro il mio filo e vado a realizzare il mio primo giro il mio primo giro che è tutto a diritto inizio e lavoro tutto a diritto il mio primo giro quando arriviamo in fondo lavoriamo il nostro vivagno e partiamo col secondo giro comunque io adesso lavoro le mie 50 maglie e ci vediamo alla fine del giro così arrivati alla fine del giro tiro il filo in avanti e lavoro l'ultima maglia a rovescio ok ora giro i miei ferri e il secondo giro lo andiamo a lavorare in questo caso dovendo fare la maglia rasata tutto a rovescio quindi tiro il filo all'interno e comincio a lavorare tutte le mie maglie a rovescio in questo caso il vivagno viene in automatico perché essendo maglie lavorate a rovescio e lavorando noi a rovescio già tutto il giro non abbiamo bisogno di ricordarci di fare il vivagno lavoriamo tutto il nostro giro a rovescio ok e ci vediamo alla fine del giro sono alla fine del mio giro lavoro la mia ultima maglia sempre a rovescio e ho finito il secondo giro volto il mio lavoro di nuovo sul diritto se vedete la lavorazione comincia a cambiare da cicciosa comincia a diventare piatta ora vado a lavorare il mio terzo giro e il mio terzo giro è a diritto ma siccome devo fare il vivagno tiro il filo avanti lavoro sempre la mia prima maglia e l'ultima maglia a rovescio dopodiché questo giro vado nuovamente a lavorarlo tutto a diritto andiamo avanti così fino ad aver lavorato i sei giri quindi questo è il terzo ed è a diritto il prossimo sarà a rovescio e poi ne abbiamo ancora due uno diritto e uno rovescio ci vediamo alla fine della realizzazione dei sei giri totali realizzati i nostri sei giri di maglia rasata ora andiamo a realizzare i due giri che ci servono per la maglia allungata quindi vi trovate sul diritto del lavoro a questo punto la prima maglia e l'ultima maglia la lavoriamo sempre a vivagno quindi tiro il filo in avanti e lavoro una maglia a rovescio tenete sempre i fili piuttosto morbidi cioè cercate di lavorare sempre morbido a questo punto andiamo a realizzare il primo giro per la maglia allungata quindi io entro anche per la maglia allungata trovate il tutorial proprio solo del punto sopra nel box informazioni io qua ve lo faccio rivedere però se lo volete proprio dettagliato solo quello trovate proprio il tutorial proprio solo per la maglia allungata allora entriamo nella prima maglia come se dovessimo lavorare a diritto quindi entriamo da davanti e passiamo sotto a questo punto prendiamo il nostro filo lo giriamo una due e tre volte sul nostro ferro e usciamo come se stessimo lavorando una maglia a diritto così e abbiamo tre fili sul nostro ferro di nuovo entriamo nella successiva una volta che siamo dentro a diritto uno due e tre giri e poi usciamo e chiudiamo la nostra maglia come se stessimo lavorando una maglia normalissima a diritto ve lo faccio vedere di nuovo entro uno due e uno tre e poi esco di nuovo entro uno due e tre di nuovo entro a diritto vado sotto carico il filo tre volte due e tre e poi esco vado avanti così per tutto il mio ferro per tutte le mie lavorando tutte le mie maglie nello stesso modo quando arrivo all'ultima la lavoro a rovescio allora tenete in considerazione che adesso stiamo caricando su tanti fili quindi vi troverete con tante maglie sul ferro quando scenderanno andranno per chi sta lavorando sui ferri circolari quando scenderanno andranno sul cavetto del nostro ferro circolare tenderanno a stringersi scusate ma poi nel prossimo giro vi faccio vedere ora andiamo avanti a lavorare tutto il giro nello stesso modo quindi entriamo carichiamo sul filo tre volte e poi usciamo e tiriamo giù la maglia ecco qua andiamo avanti per tutto il giro ricordatevi l'ultima maglia lavoratela normalmente a vivagno quindi a rovescio e ci troviamo per il secondo giro sono alla fine del mio ferro io vado a lavorare l'ultima maglia allungata quindi uno due e uno tre esco e scarico la maglia sono all'ultima maglia l'ultima maglia non la lavoro allungata ma la lavoro a vivagno quindi a rovescio eccoci qua ok giro i miei ferri e vado a lavorare il secondo giro per la maglia allungata secondo e ultimo giro perché per realizzare la maglia allungata sono due giri di lavorazione allora prima maglia non la considero la vado a lavorare a rovescio il mio solito vivagno ora torno sul diritto a questo punto noi abbiamo una maglia lavorata e tre maglie arrotolate che non sono lavorate io entro col mio ferro a diritto nella maglia lavorata la vedete perché è quella che è sotto al filo entro carico sul filo e la lavoro normalmente a diritto quando scarico il filo vedrete che vi si scioglieranno le tre maglie che avete arrotolato non fate altro che prenderle e metterle dietro non le considerate le tirate dietro col dito così ora riprendete il vostro ferro entrate nella maglia vedete che avete lavorato caricate sul filo e lavorate una maglia a diritto così e di conseguenza vi si scioglierà il filo che avete arrotolato lo prendete e lo mettete sotto lo tenete da parte col dito di nuovo entrate nella maglia che vedete lavorata è quella che ha il filo dietro quindi entrate lavorate a diritto e vi si scaricherà tutto il filo che avete arrotolato ve lo faccio vedere di nuovo prendete la maglia che è legata quella col filo sotto entrate lavorate a diritto e scaricate nel momento stesso in cui scaricate vi si scioglierà tutto il filo che avete arrotolato lo prendete e lo mettete dietro e andate avanti così per tutto il vostro ferro quindi lavorate una maglia a diritto e scaricate il vostro filo allora quello che vi dicevo prima avendo camminato sui ferri circolari tutte le mie maglie e pesando il lavoro si va a stringere il filo arrotolato quindi non salirà da solo sul ferro man mano che dovrete far camminare il vostro lavoro per poterlo lavorare con le mani dovrete andarlo a smuovere un pochino in questo modo per farlo salire quindi ogni volta che vi si svuota il ferro spingete piano piano muovendolo vi si riallargano le maglie abbastanza da poter tornare a lavorare vi faccio vedere un'altra volta cosa andiamo a fare mi raccomando l'importante avendo arrotolato così il filo è possibile che le maglie arrotolate si accavallino alla maglia da lavorare quindi voi prima di andare a lavorare guardate sempre bene quale maglia state lavorando aprite con la punta del ferro vedete che c'è il filo sotto che lega la maglia a quel punto sapete che è quella da lavorare entrate dentro lavorate e fate scaricare tutto il vostro filo lo mettete dietro vi aiutate tranquillamente con le mani una volta che è dietro non fate caso al filo resterà tutto ballonzolante così viene poi sistemato dopo una volta scaricato il filo rientrate nella maglia successiva ricaricate il filo e rifate lo stesso lavoro fate così per tutto il giro ci vediamo alla fine del giro per chiudere con il vivagno e per andare a lavorare poi ricominciare a lavorare con la nostra maglia rasata arrivata alla fine del giro io vado a prendere l'ultima mia maglia da lavorare quindi entro la lavoro a diritto e faccio sfilare tutto il filo eccolo qua e l'ultima maglia la lavoro a rovescio perché è il mio vivagno eccoci qua a questo punto abbiamo finito il giro di maglie allungate ora con la mano tiro un pochino il mio lavoro in modo da far allungare tutte le mie maglie non tiro troppo perché tanto poi con la lavorazione con il peso mi si tirano da sole però ecco qua così ora e per tutto il resto del lavoro io dovrò lavorare 10 giri di maglia rasata e dopo i 10 giri di maglia rasata i 2 giri per realizzare il mio punto allungato quindi una volta arrivati a questo punto voi vi ritrovate sul diritto del lavoro il diritto del lavoro lo riconoscete perché la maglia rasata davanti è così e molto piatta mentre di dietro ha tutte le pancine quindi siete sul diritto del vostro lavoro realizzate il vostro primo giro a vivagno quindi a maglia a rovescio per fare il vivagno e da adesso in poi ripartite con il primo giro tutto a diritto tranne l'ultima maglia che è sempre a vivagno e quindi va lavorata dietro il secondo giro sarà a rovescio il terzo giro a diritto il quarto giro a rovescio e così via fino ad arrivare a dieci giri finiti i dieci giri ripetete i due giri per realizzare il vostro la vostra maglia allungata dopodiché ripartite con i dieci giri stando sempre attenti a ritrovarvi sul davanti con i dieci giri a maglia rasata il risultato che dovete ottenere è una ripetizione eccoci qua una ripetizione del punto in questo modo ora noi siamo qua dieci giri di maglia rasata due giri per la maglia allungata dieci giri di maglia rasata due giri per la maglia allungata io ho realizzato per la mia maglia sette giri arrivata a un certo punto ho finito il filato e ho dovuto aggiungere un gomitolo nuovo quindi anche per questo pannello quando arriverò al cambio di filato vi farò vedere come io ho cambiato il filato e poi riprenderemo una volta arrivata all'ultimo giro di maglie allungate la parte prima della chiusura sarà diversa quindi lavoriamo tutte quante fino all'ultimo giro che desiderate fare di maglie allungate dopodiché andremo a lavorare insieme l'ultimo pezzettino per chiudere il lavoro è arrivato per me il momento di andare a cambiare il mio gomitolo perché se continuassi con questo mi ritroverai a dover fare il cambio gomitolo proprio sui due giri di maglia allungata per semplificarmi la vita io cambio gomitolo adesso e mi tengo questo pochino per le rifiniture del lavoro e inizio un gomitolo nuovo quindi ho fatto i miei due giri per la maglia allungata dopodiché ho fatto due giri di maglia rasata in modo da ritrovarmi al terzo giro a dover lavorare sul diritto a questo punto io mi posiziono per iniziare a lavorare quindi io sono pronta per iniziare a lavorare questo è il mio filo finito vado a prendere un filo nuovo ne lascio da parte un pochino e vado a posizionarlo sul mio dito indice come al solito come se fosse il filo il filo solito prendo anche insieme l'altro filo quello che andrò a tagliare li tengo tutti e due uniti così di qua la parte che va la parte di qua la parte che andrò a tagliare e tengo in mano ora entro col mio ferro a rovescio perché il primo punto abbiamo detto che lo lavoriamo sempre a rovescio perché è il vivagno quindi scusate porto i due fili uniti davanti così entro col mio ferro a rovescio della mia maglia e lavoro a rovescio tutti e due i fili vedete che qua ne ho due adesso e poi scarico la mia maglia ora torno sul diritto perché io sto lavorando sul giro diritto e sempre tenendo i due fili uniti vado a lavorare la seconda maglia a diritto così a questo punto lascio andare il filo che non mi serve più quindi quello vecchio e quello nuovo con la codina quello che ha la codina tengo in mano solo il filo del gomitolo e vado avanti a lavorare i miei punti diritti le mie maglie diritti con il gomitolo nuovo così per comodità io non avevo tagliato il mio vecchio filo quindi adesso che ho avviato il mio lavoro e che i fili sono uniti vado a tagliare e mi ritrovo con le due codine laterali che però ormai sono fissate quindi non si disfano più e vado a lavorare normalmente nel giro successivo quando mi ritrovo nelle ultime due maglie se voi guardate vedrete che due maglie e due maglie sono legate allo stesso livello non farò altro che lavorarle insieme e farle scendere come se fossero un'unica maglia detto questo io proseguo col mio lavoro proseguite anche voi andiamo a realizzare la lunghezza che desiderate io devo arrivare al settimo modulo di maglie allungate dopo di che gli ultimi giri prima della chiusura io farò sempre maglia rasata ma farò 5 giri quindi il primo giro a diritto il secondo giro a rovescio terzo giro a diritto quarto giro a rovescio quinto giro a diritto e mi fermerò lì ci vediamo a quel punto per la chiusura del nostro pannello una volta realizzati tutti i vostri moduli i moduli che vi servono andrete a realizzare 5 giri di maglia rasata dopo di che dopo aver fatto 5 giri di maglia rasata andremo a chiudere il nostro lavoro quindi riprendiamo in mano i nostri ferri ricarichiamo sul ferro le nostre maglie e iniziamo la chiusura delle nostre maglie allora la prima maglia la lavoro comunque sempre a rovescio ok quindi carico su entro carico il filo e scarico la maglia ora torno a diritto entro a diritto carico sul filo esco e scarico la maglia a questo punto vado a prendere la maglia prima la prima che ho lavorato entro col ferro mi aiuto col dito se ho bisogno e la faccio cadere e abbiamo chiuso la prima maglia andiamo di nuovo a lavorare a diritto la maglia successiva quindi carichiamo sul filo usciamo e scarichiamo la maglia torniamo sul ferro di destra entriamo nella prima maglia che abbiamo lavorato la solleviamo scavalchiamo quella che c'è per prima e la facciamo cadere di nuovo carichiamo entriamo nella maglia carichiamo sul filo usciamo andiamo a prendere nuovamente la maglia che abbiamo lavorato in precedenza la solleviamo e la facciamo cadere andiamo avanti così per tutto il nostro giro man mano le maglie andranno a chiudersi quindi lavoriamo una maglia andiamo a prendere quella precedente che abbiamo già lavorato la tiriamo giù e così si chiude di nuovo lavoriamo una maglia diritto andiamo a prendere quella che abbiamo lavorato in precedenza la solleviamo scavalchiamo quella che abbiamo appena lavorato e la facciamo cadere di nuovo lavoriamo a diritto andiamo a prendere la maglia che abbiamo lavorato in precedenza scavalchiamo e la facciamo cadere arriviamo così alla fine del nostro giro ci vediamo per la chiusura dell'ultima maglia siamo arrivati alla fine quindi ho ancora una maglia da lavorare la lavoro a diritto e scarico quella precedente ed eccoci all'ultima io la lavoro sempre a rovescio quindi così poi vado a prendere quella precedente e la scarico a questo punto mi è rimasta una maglia sola io allungo un po' il filo vado a tagliare e poi non faccio altro che sfilare il mio lavoro e tirare e così abbiamo chiuso il nostro pannello dobbiamo andare a realizzarne due uguali due identici realizzati i nostri due pannelli uguali dobbiamo andare ora a cucire le spalle io ne ho già fatta una per farvi vedere come ho deciso di fare la mia cucitura la mia cucitura è questa io ho unito la parte dietro con la parte davanti cucendo sul diritto questo per le spalle andiamo adesso a cucire l'altra parte allora io vi dico che ho cucito insieme 15 maglie per un totale di 12 cm quindi ho stabilito che la mia spalla doveva essere 12 cm ho misurato anche dall'altra parte i 12 cm solo su un pannello perché poi andando a cucire sarà meccanico che se sono 12 cm di qua saranno 12 cm anche davanti perché cuciremo una maglia su ogni pannello e quindi combaceranno ho deciso di lasciare non ho misurato ve lo dico subito l'ampiezza del mio collo del mio scollo allora puntiamo il metro di qua lo puntiamo anche dall'altra parte di 23-24 cm eccolo qui ve lo faccio vedere però se vi provate i due pannelli addosso puntando due marca punti potete decidere tranquillamente che misura fare allora ora mettiamo i due pannelli diritto davanti a noi e diritto appoggiato sul tavolo poi lo apriamo in modo da avere un pannello sul diritto alla nostra sinistra e un pannello sul diritto alla nostra destra io ho avanzato abbastanza filo da poter usare lo stesso filo della chiusura del mio lavoro per andare a cucire adesso infiliamo il nostro ago da lana io ho questi aghi vecchi non sono organizzata con l'ago di plastica però ho sempre usato queste mi vanno bene questi voi usate l'ago da lana che avete ho infilato il mio filo nel mio ago e ora noi abbiamo il filo che parte sulla sinistra dobbiamo andare ad inserire il filo nella prima maglia del del pannello di destra quindi io cerco la mia prima maglia che è questa vedete entro dentro col mio filo e tiro in modo da unire le due parti faccio di nuovo un altro giro all'interno della stessa maglia di sinistra e rientro di nuovo anche a destra così probabilmente nel sottofondo sentirete mio figlio che sta facendo la battaglia in questo modo e abbiamo unito adesso andiamo a cucire una maglia di sinistra con la maglia di destra e di nuovo una maglia di sinistra con la maglia di destra quale maglia andiamo a prendere andiamo a prendere ogni pancina che sporge ve le faccio vedere una è questa quella successiva è questa poi c'è questa ogni pancina che voi vedete ecco in bianco si vedono meglio questa qua questa qua andremo a cucire proprio queste pancine con le pancine parallele nell'altro pannello quindi tiro bene il mio filo se ho il filo a destra entro nella pancina di sinistra così ok e tiro il mio filo dopodiché mi sposto ed entro nella pancina del pannello di destra eccola qua passo tiro il mio filo in modo da unire bene le due parti ora di nuovo entro nella pancina successiva del pannello di sinistra eccola qua e tiro una volta tirato mi sposto nella pancina successiva di destra eccola qui io spero di spostare le mani abbastanza da farvi vedere entro qui e tiro il mio filo di nuovo fermo tutto con il dito mi sposto nella pancina successiva e tiro il mio filo fermo di nuovo il filo pancina successiva del pannello di destra entro e tiro il filo un po' come per farvi capire è un po' come l'allacciatura delle scarpe da tennis che vabbè forse non è l'esempio più indicato però è quello veramente che rappresenta di più questo tipo di cucitura secondo me entro di nuovo nella pancina di sinistra e tiro vado nella pancina di destra sempre da su dall'interno dall'interno verso l'esterno e tiro e vedete che viene fuori una cucitura piatta che non si vede andiamo avanti ancora un pochino entro nella pancina di sinistra e poi passo alla pancina di destra ne facciamo ancora uno entro nella pancina di sinistra e poi passo alla pancina di destra e tiriamo man mano tiriamo e creiamo questa cucitura allora andiamo avanti fino al marca punti e ci vediamo per la chiusura così vi faccio vedere come nascondo il filo eccomi qua io sono arrivata alla fine della mia cucitura ho l'ultima pancina sinistra da prendere e poi passo a prendere quella di destra che avevo fermato con il marca punti quindi posso togliere il mio marca punti così mi si libera più facilmente la pancina e vado a prenderla adesso torno sulla pancina di sinistra infilo l'ago e lo passo dietro eccoci qua a questo punto volto il mio lavoro sul retro e vado a fermare il mio filo quindi qui è un po' più duro far passare il filo eccoci qua tiro e faccio un nodino al mio lavoro in modo che non mi si disfa più dopo di che prendo il mio ago tocco dove ho la cucitura perché non la potete vedere quindi andate a tatto dove sentite la parte un pochino più rigida e la vostra cucitura passo il mio filo da una parte fino alla fine dall'altra parte eccoci qua così faccio passare tutto il filo posso mollare il mio ago quindi a questo punto libero il mio filo dall'ago e tiro la spalla in modo da ridargli la forma di partenza la dimensione della partenza eccoci qua se giro il mio lavoro sul diritto la mia cucitura è questa sia da una parte sia su una spalla che sull'altra spalla e abbiamo cucito le nostre spalle andiamo ora a realizzare le nostre cuciture laterali quindi la prima cosa che dovete andare a fare è decidere quanto ampio volete il vostro scalfo manica io vi do indicazioni della lunghezza che ho deciso provandomi il lavoro di lasciare io quindi il mio scalfo manica misura circa 20-21 cm dico circa perché al filato se lo tiro si allunga se lo tiro posso arrivare anche a 24 però lasciandolo morbido arrivo a volendo 22 esagerando quindi questa è la mia misura scegliete la misura che vi serve quello che vi consiglio è di andare a partire con la cucitura del vostro laterale sotto la lavorazione appunto allungato cioè non andate a partire proprio nella lavorazione andate a partire un pochino sotto io ho già cucito un lato perché voglio farvi vedere il tipo di cucitura che ho deciso di realizzare ecco qui c'è la mia cucitura io ho voluto realizzare una cucitura che anche tirando il lavoro restasse traforata tanto quanto il lavoro stesso non volevo una cucitura di quelle compatte dove poi si vedeva si vedeva proprio la piegatura di solito almeno quello che ho visto si vede la leggera piegatura del lavoro e la cucitura resta così ecco io questo non in un lavoro del genere dove ci sono tutti i trafori non volevo una cucitura così compatta così omogenea volevo qualcosa che comunque andasse a richiamare il trascurato l'effetto trascurato che trascurato tra virgolette ovviamente ho voluto dare alla mia alla mia maglia quindi ho optato per questa cucitura chi conosce ci sono tantissimi metodi per cucire i due pannelli le maglie chi conosce altri metodi e preferisce un metodo differente faccia quello che vuole io per iniziare essendo comunque un apprendista anch'io in questo caso per iniziare ho deciso comunque di utilizzare una cucitura semplice e che mi piacesse come effetto quindi io una parte l'ho già cucita e ho cucito dal sotto ascella fino al fondo del mio lavoro ora andiamo a cucire insieme l'altra parte così vediamo come si fa allora voltate il vostro lavoro sul rovescio ormai le spalle sono cucite quindi una volta che girate da una parte automaticamente vi viene il lavoro a rovescio da tutte e due ok io ho messo qui il mio marca punti e da qui inizierò a cucire quindi questo è il mio marca punti del sotto ascella questa parte io la farò più corta quindi cucirò meno perché voglio lasciare la parte sotto aperta nessuno vi vieta di cucire tutte e due le parti fino in fondo cucire tutte e due le parti fino a metà questo lo scegliete voi io vi faccio vedere questa parte ma la tecnica di cucitura che ho utilizzato di qua è la stessa che ho utilizzato dall'altra parte quindi vado a prendere il mio ago infilato nel filo e vado a inserirmi subito sotto le maglie allungate dove c'è aspettate che devo entrare in camera ok eccolo qua subito dopo le maglie allungate dove c'è il primo nodino della prima maglia io entro qua mi sposto dall'altra parte dove c'è il marca punti ed entro nella maglia lavorata tiro il mio filo e sono uscita dall'altra parte bravissima così tiro il mio filo e quando sono arrivata ad avere più o meno questa lunghezza di codina io realizzo un nodo questo ho visto che chi è brava non lo fa ma siccome io come vi dicevo sono all'inizio mi faccio il mio nodo e chi se ne frega che tanto resta sotto e nessuno lo vede dopodiché tenendo la codina nel mezzo perché io andrò a incorporarla nelle mie cuciture vado a iniziare la cucitura come cuccio allora il mio filo è qua noi abbiamo fatto il vivagno quindi ogni maglia ha un nodino vedete c'è un nodino qua c'è un nodino qua c'è un nodino qua noi andremo a cucire i vari nodini quindi io entro nel primo nodino che ho davanti a me e poi entro nel nodino che ho nel pannello di fronte tengo il mio filo in mezzo così mi viene legato e piano piano sparisce eccoci qua ora mi sposto col mio filo e vado a legare di nuovo il primo nodino che mi si presenta con il nodino successivo il mio filo lo tengo sempre in mezzo così viene nascosto nella lavorazione nella cucitura di nuovo mi sposto davanti vado nel primo nodino cerco il nodino subito dopo entro e vado a cucire siamo all'ultimo nodino al penultimo nodino prima della maglia della maglia allungata quindi vado a cucire anche questi due nodini insieme e poi vado a cucire gli ultimi due insieme ok ora siamo dove c'è la maglia allungata avendo lavorato anche la maglia allungata anche nel giro della maglia allungata il vivagno voi avrete lo stesso un nodino quindi andate da una parte ad attaccarvi alla maglia allungata e dall'altra andrete nel vostro nodino e arrotolate dopodiché ricominciate a lavorare nel primo nodino della lavorazione a maglia rasata sempre portandovi dietro il filo finché non vi finisce così almeno l'avete incorporato tirate un pochino il filo ma non tirate esageratamente perché la cucitura deve rimanere morbida deve rimanere molto molto simile all'effetto della maglia allungata quindi siamo di nuovo qua entriamo di nuovo nel nodino successivo cerchiamo il nodino dall'altra parte e andiamo a legare ecco qua di nuovo il nodino da una parte il nodino dall'altra di nuovo nodino davanti e nodino di dietro avendo fatto gli stessi giri ed essendo giri di lavorazione così semplici vi combaciano sicuramente i nodini e diventa tutto molto più semplice nodino qua l'abbiamo fatto quindi nodino davanti e nodino di dietro voglio farvi vedere ancora dove c'è la maglia allungata e ci siamo quindi dove c'è la maglia allungata avete questo intreccio quindi vado a prendere i due fili dell'intreccio entro nel nodino dall'altra parte e vado a chiudere poi entrate di nuovo nel nodino e nel nodino sotto io sono arrivata quindi finiamo insieme vado a lavorare di nuovo il primo nodino della maglia rasata passo al nodino successivo di nuovo al nodino subito dopo e di nuovo al nodino subito dopo che è questo e ora abbiamo l'ultimo nodino prima della nostra maglia allungata che per me è l'ultimo perché io la misura che ho deciso di realizzare arriva fino a qui quindi entro nell'ultimo nodino che devo lavorare entro nell'ultimo nodino dall'altra parte che devo lavorare e faccio il mio giro adesso faccio un altro giro negli ultimi due nodini e realizzo il mio nodo e ora lavoro col mio ago dentro le maglie che ho appena realizzato per un pezzettino tiro bene in modo da dargli di nuovo la misura giusta dopodiché torno di nuovo indietro ridò di nuovo la misura giusta a questo punto posso prendere le mie forbici e tagliare il mio filo e abbiamo cucito anche questa parte l'ho cucita talmente bene che non la trovo più eccola qui ecco la mia cucitura ora ora io ve lo ripeto questa è la prima cucitura che vado a fare ho navigato in internet ho guardato su youtube ho letto tutorial mi sono informata ci sono veramente tanti metodi per cucire questo è il più semplice e come primo lavoro credo che sia la soluzione più adatta sia a me che a voi poi man mano col tempo impareremo anche cuciture più complesse cuciture più studiate più articolate per ora abbiamo cucito la nostra maglia sia sulle spalle che sui fianchi questo è come si presenterà la vostra maglia alla fine del nostro lavoro la cinturina che vedete nelle foto è realizzata a parte grazie a tutti